Gentili telespettatori, buona giornata. Crosetto parla del reddito di cittadinanza. Con chi se la prende per la mancanza di personale? È colpa del reddito o non è colpa del reddito? Negli ultimi tempi la mancanza di personale va dagli infermieri, agli uscieri, portinai, al cameriere, al cuoco, al lavapiatti, a quello che lavora nell'albergo. La mancanza di personale è emersa in tutta la sua gravità, ma davvero gli italiani non hanno più voglia di lavorare? Si rifugiano nel reddito e stanno tutto il giorno sul divano a guardare Maria De Filippi? Non è proprio così, almeno io dico di no. Ma c'è l'impossibilità a trovare certe figure professionali. Guarda un po', sono tutte figure professionali che hanno delle retribuzioni basse o bassissime. E perché non si trovano persone per fare lavori come, non so, il cameriere o il lavapiatti? Perché? C'è una parte anche che è dovuta al fatto che la gente viviamo nell'era dell'apparenza, vuole apparire, vuole essere, vuole fare tutti i lavori importanti, e allora certi lavori non vogliono più essere fatti. Se nei campi non ne parliamo, ci sono, arrivano dall'estero per lavorare nei campi, prossimamente arriveranno dall'estero anche per lavorare, per fare questi lavori. Gli italiani non li vogliono fare più, ma come per i campi, anche perché sono sottopagati. Ad esempio, come dicevo sempre, per fare il cameriere a Palermo si guadagna tra 600 e 800 euro al mese. A quel punto è ovvio che a Palermo è meglio prendere il reddito di cittadinanza a 600 euro, no? Mi sembra anche ovvio. Ma sul tema della mancanza di personale, Crosetto se la prende con chi? Dice così, se rispetti la legge e i contratti, non fatichi a trovare persone che abbiano voglia di lavorare. Se pensi che assumere le persone sia fare loro un regalo, di cui devono essere tegrate, accettando ogni titolo di trattamento, meriti di rimanere da solo. E poi aggiunge che il reddito di cittadinanza e mancanza di personale sono due discorsi totalmente diversi. La legge che istituisce il reddito fa schifo, non l'intervento economico a sostegno delle persone in stato di povertà, che è necessario e giusto, ma il resto è da buttare. È assolutamente corretto quello che dice. Il problema del reddito è che è una legge fatta da schifo. Ci sono un sacco di truffe. È stata fatta così male che non ci sono delle maglie che possano detenere le truffe. Ci sono decine di truffe di diverso tipo, per miliardi di euro truffati, e oltre 150.000 persone beccate che truffavano lo Stato. Quindi, per come è fatta questa legge, questa legge è fatta in modo schifoso, male. Invece, come dice Giorgetti, Giorgetti scusate, Crosetto, l'intervento economico a sostegno delle persone in stato di povertà è necessario e giusto. Necessario e giusto. Il resto è da buttare. Per quanto riguarda le assunzioni, ovviamente molti, molti imprenditori medio, medio o piccoli, pensano che assumere una persona è fargli un favore, devono essergli grati. come dire, io ti do il lavoro, ti do 600 euro al mese, mi devi ringraziare ogni mattina quando mi vedi. È sbagliato, ma questo è un ragionamento tipico del piccolo imprenditore, quello di sentirsi al centro del mondo, di sentirsi lui illuminato, e gli altri che sono dei poverini devono ringraziarlo tutti i giorni. Quindi, se gli da 600 euro devi anche ringraziare, non lamentarsi, ma ringraziare. Non è così. Non è così. Chi lavora affitta il proprio tempo in cambio di una retribuzione. Solo che oggi quell'affitto è così basso che nessuno vuole più affittare il proprio tempo per 600 euro al mese. Quindi, come dice Crosetto, non è un regalo a cui devono ringraziare tutti i giorni le persone. Io ti affitto il mio tempo e tu mi paghi. Non c'è da ringraziare nulla. Pertanto, quello è un deterrente. Quando tu vai sul mondo del lavoro e trovi delle persone che ti fanno capire che le devi ringraziare tutti i giorni per darti 600 euro, li mandi a quel paese il prima possibile. Appena trovi un altro lavoro scappi via, gambe levate. Non c'è nessun valore aggiunto per rimanere in quell'azienda. Di là mi pagano di più, però rimango qui perché è un bel lavoro, un bel ambiente, rapporti. Invece quando c'è qualcuno che ti fa pesare, che ti ha pure assunto. Per quanto riguarda, appunto, sono delle cose differenti. Quando però Crosetto parla di se tu le persone le assumi con i contratti tutto a norma di legge, non fai fatica a trovare persone. Non è neanche detto perché quei lavori sottopagati spesso sono sottopagati a norma di legge, cioè la legge avvalla del sfruttamento del lavoro. Quindi, realmente, gli stipendi sono troppo bassi. Anche per legge sono troppo bassi. Naturalmente Crosetto, lui ha un'esperienza dove ovviamente non assume camerieri e cuochi, ma la sua azienda assume figure professionali che hanno fatto un certo iter, certi studi, certe esperienze. Tu li assumi, cerchi la persona qualificata per quella cosa, gli dai quello che è il suo valore di mercato e le persone vanno a lavorare. Ma se Crosetto avesse un bar o un ristorante credo che avrebbe difficoltà a trovare le persone. Non perché le assuma in nero, ma perché anche con i contratti il cameriere non è che va a guadagnare così tanto da essere felice. Ecco, pertanto il discorso di Crosetto al 90% lo condivido. Quello che si assumi le persone con tutti i contratti di legge le trovi. Insomma, dipende da che lavoro. Ecco, per fare magari il direttore vendite, il direttore commerciale, per fare lo specialista di quella cosa lì, le trovi le persone. Ma se devi trovare una persona da 700, 800, 900, 1000 euro al mese comincia a trovare ad avere dei problemi proprio perché le retribuzioni non sono più adeguate a quella che è la vita in Italia e in Europa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie, di fai-da-te. Poi dopo qualche ora sono pubblicati, condivisi anche nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Nella community del canale poi trovate tanti, se riesco, dei sondaggi, delle notizie, fotografie, insomma un po' di cose differenti. Grazie nuovamente e ci vediamo tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.